Prende corpo il progetto di costruzione dell'aeroporto di Torraccia sulla base di assidue interlocuzioni e degli incontri a livello interministeriale tra San Marino e Arabia Saudita. L'obiettivo è quello di puntare sullo sviluppo, promuovere il turismo, facilitare i trasporti e sostenere l'industria aeronautica. In occasione della giornata mondiale del turismo, il segretario di Stato di San Marino, Federico Pedini Amati, Ariad, ha siglato a nome del governo una lettera di intenti con il Fondo Saudita per lo sviluppo, incentrata sulla cooperazione nel campo degli investimenti infrastrutturali. Nella fattispecie è stata registrata la disponibilità di 29 milioni di dollari in prestito a tasso minimo per finanziare la nuova aviosuperficie. Secondo Pedini Amati, investire sull'aviosuperficie può rivelarsi determinante per lo sviluppo dell'economia e del turismo di San Marino.